voti perchè li fanno arbitraria? voti, e non siamo attenda all'aria carmen MĄ MĄ Questa è un paio della scuola di Lucre? Ma che domani ci sono No di farlo di un paio Cosa Cosa Questa è la scuola? Cosa 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 Ho Gaccio, poi c'è la gaccio, ce l'ha appunto. Quando manca? Attenzione, attenzione, sette minuti passate, poi fino a 12 e stanno casate. Le bianche, la rigore è là, capito? No, ha fatto una là più una qua. Se la toccano così? No, dico, è da qua io che il fatto della rimessa alla fronte. Se la toccano così? Solo se la toccano. Se va diretta e imbocca la gaccia. Si vede. Guarda, 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 guarda!